Il nostro progetto riguarda Moveo, un rover autonomo per la smile delivery, cioè per la consegna a domicilio di pacchi, cibo e ogni prodotto che debba essere poi destinato all'utente finale. Questo mezzo è sviluppato per essere completamente autonomo e quindi gestire questo ultimo tratto della catena logistica in maniera più efficace, più efficiente e più economica rispetto a come può essere realizzato attualmente. Inoltre sfruttando mezzi elettrici e sfruttando il fatto di poter muoversi nel migliore modo possibile riesce anche a migliorare e rendere più ecosostenibile questo tipo di mobilità.